Alla tappa di Bari del Focus Tour siamo con l'ingegner Pier Giacomo Cancelliere, primo dirigente Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, relatore d'eccezione al Focus Tour qui a Bari, così come in tutti gli altri Focus Tour. Quali i punti salienti di novità normativa per i progettisti di sicurezza antincendio? Bene, sicuramente le novità sono legate alle aggiornamenti del dispositivo normativo ormai madre della progettazione della sicurezza antincendio, che è il codice. Nuove regole tecniche verticali completano la flessibilità dello strumento di progettazione, abbiamo visto gli edifici storici, vedremo tra un po' la regola tecnica verticale delle chiusure d'ambito. Sicuramente nel panorama dove si focalizza il Focus Tour abbiamo anche delle novità rispetto alle norme tecniche, come l'aggiornamento della norma che riguarda la progettazione e l'installazione degli impianti di rivelazione all'arma incendio, la Uni 9795, che è stata aggiornata lo scorso 2 dicembre. Benissimo, su quali drivers a suo avviso si svilupperà la professione del progettista di sicurezza antincendio? Il mestiere del progettista di sicurezza antincendio non è un mistero semplice, però io credo che sia davvero avvincente, perché deve raccogliere in sé tantissimi aspetti peculiari dell'attività. Il rischio incendio è in tutte le attività, pertanto dovrà essere curioso e capire quali sono le esigenze della progettazione rispetto all'attività cui si rivolge. Certo, l'aggiornamento è importantissimo, ma anche saper cogliere le sfide delle nuove tecnologie per arrivare ad ottimizzare la progettazione della sicurezza antincendio senza interferire troppo con l'attività che sta valutando. Quindi, quali a suo avviso le sfide prossime e future sul fronte proprio della prevenzione incendi? Bene, nella prevenzione incendi io spero che il nuovo quadro normativo, anche con i decreti che andranno a sostituire il 10 marzo 98, che sono il decreto 1 settembre 2021, 2 settembre 2021, 3 settembre 2021, che aggiorneranno appunto la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, porteranno ad un approccio diverso. Fino ad oggi io credo che il professionista di sicurezza in generale, in particolare quello di sicurezza antincendi, si ponesse questa domanda ma la mia attività è a norma? Ecco, io credo che l'approccio prestazionale, l'approccio basato sulla valutazione e medicazione del rischio restituisca invece una progettazione che mi faccia rispondere a questa domanda. Ma la mia attività è davvero sicura?